oggi è una bella giornata che sembra di essere già in primavera è l'undici marzo e siamo venuti poco fuori milano con il piccolo a fare una passeggiata in questo parco non è un video molto interessante però come vedete ecco ha capito che lo sto riprendendo e quindi fa di tutto per complicarmi la vita adesso ho trovato un bastone cerca di portarselo vediamo un po se ha voglia di muoversi sentite che c'è un'atmosfera già un po di primavera noi ne approfittiamo però ehi ciccio quello è un lavoro che non va affatto bene no 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 via 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 ha bisogna trovare il modo di liberarlo se no questo si mangia i pezzi di legno perché non corri un po e corriamo un po dai 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 fai una bella corsa guarda che bello guarda tra i nonti con i non ti scordar di me fior tra i fiori bene 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 vi faccio vi facciamo vedere un po qua i dintorni ecco l'inverno non è ancora finito perché gli alberi vedete sono ancora spogli ma ma qua il verde il prato è già pieno di questi fiori ecco il piccolo va fiutando ripeto non è un video particolarmente interessante ma così è una una testimonianza dell'inizio della primavera ecco vedete io cerco di riprendere lui mi sta attaccato così non ci riesco ehi ciccio dai mettiti in posa facciamo un saluto facciamo un saluto no 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 non qua vicino impossibile va bene salutiamo tutti tutti i nostri youtuber ciao a tutti al prossimo video ciao